Si è concluso questa mattina con una cerimonia di premiazione e di consegna degli attestati di partecipazione ai docenti e agli alunni che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento promozionale delle eccellenze della gastronomia abruzzese nella città lagunare il percorso di gemellaggio culturale e gastronomico denominato Il Gran Sasso e la Laguna, Venezia e Crognaleto, sorelle del gusto. Abbiamo avuto una parte importante in questo progetto, però quando mi è stato prospettato dal sindaco di Crognaleta, il mio amico Giuseppe D'Aronzo ho detto sì, ne vale la pena. Abbiamo investito, ne sono contento perché stiamo facendo conoscere il nostro territorio non soltanto il territorio ma il nostro produttore, le nostre eccellenze, di cui anche la scuola. È un punto di partenza, ci stiamo provando, speriamo di centrare altri obiettivi successivamente. Il progetto è nato da lei, è stato realizzato grazie alla collaborazione del BIM ed è stato vinto grazie alla sinergia. Una scommessa vinta grazie a tanta partecipazione istituzionale abruzzese e veneta, ma soprattutto grazie alla grande, come devo dire, partecipazione del preside dell'istituto di Poppa, dei professori che insomma hanno coadiuato tutta l'attività e soprattutto dei ragazzi, hanno dato un'immagine dell'abruzzo eccezionale. Un risultato importante, una partecipazione straordinaria, l'obiettivo del progetto futuro qual è? È stato quello di far parte delle eccellenze del territorio. Le eccellenze del territorio sono stati i nostri alunni, i nostri docenti, i produttori, i nostri piatti, i nostri prodotti che ci hanno permesso di portare a Venezia, una città così importante anche a livello turistico, tutto quello che noi siamo riusciti a realizzare nel nostro territorio. Il protocollo di intesa consentirà agli studenti dell'istituto di Poppa di svolgere degli stage presso 400 prestigiose strutture ricettive del circuito alberghiero veneziano.